intanto con l'intervento dei poteri forti caro david la piccola parentesi sulla biografia e il riferimento alla maggioranza tamburiniana insomma alla al creatore del movimento c'è stato tolto quel riferimento lì è stato tolto c'è stato un grande intervento dei poteri forti subito veloce hanno tolto tutto hanno tolto tutto purtroppo jacopo jacopo trojan dimmi jacopo trojan jacopo trojan per carità di dio dimmi tutto dimmi tutto che succede tanto io io sono di famiglia reale sono un principe troiano della città di troia ilio cantata da omero il nome della mia famiglia 3.000 anni di storia sono di famiglia reale ma io credo che la sta sputtanando con un minuto alla zanzana complimenti la seconda cosa la santissima prossima pasqua tra cinque giorni ritornerà a gesù cristo con l'armageddon per il giudizio universale tra cinque giorni non ho capito no però sono a parigi tra cinque giorni va a far culo me ne frega niente me ne strafotto me ne strafotto ho pagato i biglietti per parigi venga quando vuole non lo direi così e io mi sono offerto vittima per salvare tutti voi tutti voi tutti voi sarete salvati però scusami io ho scelto di far male io ho offerto a gesù di far male io per 40 anni e 4 mesi sono stato perseguitato dal demonio mi ero bastonato fin da piccolo mi bastonava mia nonna i miei compagni di scuola alimentari mi rompevano i nostri state mi bastonavano i bambini questo mi dispiace questo ci dispiace ho preso bastonate e bullismo da quando ero bambino tutti mi chiamavano troia dal mio cognome sei una troia per esempio la calci fino all'università per il nome dici per il nome dici però scusa mi posso chiederti una cosa tu pensi di essere la reincarnazione di dio onnipotente giusto? io sono l'avatar sono il nono avatar di Krishna di Vishnu Krishna che cosa sei? cosa sei? l'avatar? se vai su youtube e scrivi calci avatar k a l k i avatar non come il film avatar 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 significa colui che si incarna di era in era e colui è dio padre onnipotente e la nona incarnazione all'ultimi tempi quando finisce il regno del male inizia per sempre il regno del bene dio tra gli uomini maratana vieni signore gesù la beata speranza il regno infinito dei cieli di gesù cristo la fine dell'apocalisse la fine delle sofferenze per voi umani ma scusi in questo con lì voglio capire quando succederà tutto questo l'iva si continuerà a pagare o no? penso di sì l'iva in tutto questo ho una scadenza iva adesso quando ci sarà tutto questo l'iva si pagherà ancora l'iva o no? allora ci sarà una redistribuzione delle ricchezze in modo equo ognuno di voi sarà ricco uguale e avrete tutti i lingotti d'oro ognuno di voi beh questo adesso questo va bene questo non è male però non credo che avverrà scusi lei a proposito dicendo di essere dio onnipotente cosa pensa di bergoglio? bergoglio è anticristo beh questo è un classico diciamo ecco no sai che non mi scandalizza neanche più ormai? ormai non mi scandalizza più in questa trasmissione ci sono una quantità di persone che dicono staserozze una volta mi sarei scandalizzato vergogna vergogna non si può dire ora sei riuscito a portarmi nel tuo terreno non mi scandalizza neanche più cioè ormai abbiamo normalizzato tu hai normalizzato tu hai normalizzato il fatto che si può dire che è l'antichristo sai che c'è Anna da Roma lo sai come lo chiamano? lo chiama Papa imbroglio ogni volta che dice Papa imbroglio se tu avessi fatto questa cosa solo tre anni fa quattro anni fa sarebbe stato inconcepibile ti avrebbero chiuso il programma ora tu ti rendi conto che tu e vannacciite che non si può dire nulla in questo paese ma cazzo ma qui ogni sera viene vilipeso il Papa viene insultato ma io dico posso dire una cosa io perdono e bacio e abbraccio con tutto il cuore il mio accusatore avversario lo perdono con tutto il mio cuore lo amo ma chi è il tuo accusatore? no non diciamo il nome quello che mi dà del pazzo scusami un attimo ma tu chi vorresti che fosse Papa? Papa sarà ed Eternum Don Alessandro me la minutella ah Minutella farà il Papa ma questa è la notizia è già Papa è già Papa non è ancora Papa adesso calma adesso ancora no l'hai letto Dio l'hai letto Dio dalla morte di Benedetto XVI il monosvetterino è passato a Don Minutella non è stato male a Minutella piccolo arresto cattolico però scusami scusami Troianne adesso non è ancora Papa cioè sarà stato indicato non so da chi ma non può essere lui diventerà Papa diventerà Papa Pasquetta a Pasquetta va bene attendiamo con grande attesa grazie a Pasqua il giorno di Pasqua ritornerà Gesù Cristo ci sarà l'armageddon non succederà nulla il giorno di Pasqua arrivederci e grazie grazie a tutti grazie a tutti